Caldo africano oggi è una giornata da bollino rosso secondo gli esperti e l'allerta resta molto alta. Per occupare sono le temperature bollenti oltre i 40 gradi con una percezione dell'umidità elevata. Si tratta della prima vera ondata di calore della stagione, spiega Vittorio Marzio di Meteovalnure.it. È un po' il periodo più caldo dell'anno, non tanto per la quantità di ore di sole, ma soprattutto perché gli anticicloni, quelli che portano le ondate di calore, sono un po' più su di latitudine rispetto al normale e quindi siamo interessati maggiormente da questi periodi di bel tempo. Dal momento abbiamo la presenza del famoso anticiclone africano, quello che abbiamo detto fino a qualche settimana fa, non c'è mai stato, c'è il freschino, quest'estate è un po' diversa, è arrivato puntuale. È la prima ondata di calore eccezionale, di fatti le temperature normali per questo periodo dovrebbero però girarsi intorno ai 30, 31, 32 gradi. Ecco, vada là che noi registriamo temperature in questi giorni di 6 o 7 gradi, 5 gradi oltre la media del periodo. Di conseguenza sì. Ecco, quello che dà più fastidio soprattutto è questa afa, che un po' c'è mancata in questa prima parte dell'estate, e quindi di conseguenza l'indice di calore è molto più elevato delle temperature che registriamo sostanzialmente. È tutto dovuto alla presenza di una bassa pressione. Ho una mappa dove si vede appunto questa zona che è esattamente quella dell'Inghilterra. Ecco, questa anomalia di bassa pressione in questa zona qui fa sì che tutta questa bolla d'aria calda che vediamo, qui siamo noi, qui sotto si vede un pochino male ma ci siamo qui sotto, e questa bolla d'aria calda ci va appunto a interessare un po' tutto il centro-sud Europa. E quindi sì, è una situazione eccezionale, continuerà fino alla prima parte di domenica, poi attenzione a questo transito di questa perturbazione che porterà qualche temporale abbastanza forte. Da domani dunque arrivano perturbazioni con un conseguente calo delle temperature. Non è escluso che si verifichino eventi atmosferici anche violenti a causa di un vortice atlantico. La protezione civile ha diramato un'allerta meteo per temporali e grandinate.